Buongiorno a tutti! Oggi iniziamo a leggere le favole al telefono di Gianni Rodari. Gianni Rodari ci racconta la storia di un papà, un ragioniere che viaggiava tutta la settimana per lavoro e tornava a casa solo la domenica. Però ogni sera, come promesso alla sua bambina, le telefonava per raccontarle una storia. Quella che leggiamo stamattina si chiama A sbagliare le storie. C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. No, Rosso! Ah sì, Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e le disse, senti Cappuccetto Verde. Ma no, Rosso! Ah sì, Rosso! Vai dalla zia di Omira a portarle questa buccia di patata. No, vai dalla nonna a portarle questa focaccia! Va bene. La bambina andò nel bosco e incontrò una giraffa. Che confusione! Incontrò un lupo, non una giraffa! E il lupo le domandò, quanto fa sei per otto? Niente affatto! Il lupo le chiese, dove vai? Hai ragione! E Cappuccetto Nero rispose, era Cappuccetto Rosso! Rosso! Sì! E rispose, vado al mercato a comprare la salsa di pomodoro. Neanche per sogno! Vado dalla nonna che è malata, ma non so più la strada! Giusto! E il cavallo disse, quale cavallo? Era un lupo! Sicuro! E disse così, prendi il tram numero 75, scendi in piazza del Duomo, gira a destra, troverai tre scalini e un soldo per terra. Lascia stare i tre scalini, raccatta il soldo e comprati una gomma da masticare. Nonno, tu non sai proprio raccontare le storie, le sbagli tutte! Però la gomma da masticare me la compri lo stesso! Va bene, eccoti il soldo! E il nonno tornò a leggere il suo giornale. Ci vediamo più tardi con la storia del naso che scappa. Ciao! Grazie a tutti!